Buongiorno a tutti, sono Eleonora Bianco, Sales Coordinator per l'Italia in Universal Robots. Dal 25 al 27 maggio, Universal Robots sarà presente ai Digital Days, un punto di incontro virtuale tra aziende in cerca di innovazione e produttori di tecnologie avanzate. Faremo un focus sulla facilità d'uso e la sicurezza di programmazione dei nostri cobot recentemente certificati Machine 4.0 Ready, concentrandoci su applicazioni in cui il cobot è in grado di percepire in maniera precisa e puntuale l'ambiente in cui opera. Vi aspettiamo i Digital Days!